Lit Comp Radio o Radio Complotto. Non succede mai un c***o. Nell'intervista a Tucker Putin, il presidente Putin ha spiegato che la Russia ha cercato la pace con l'Occidente dal crollo dell'Unione Sovietica. Consiglio di guardare l'intera intervista. Ma ecco il mio breve riassunto. Dopo il 1991, quando la Russia si aspettava di essere accettata nella famiglia fraterna delle nazioni civilizzate, non è successo nulla del genere. Helsin è venuto negli Stati Uniti, ricorda, ha parlato al congresso e ha pronunciato le belle parole. Dio benedica l'America. Tutto ciò che ha detto sono stati segnali. Fateci entrare. Helsin è stato immediatamente trascinato nel fango, accusato di alcolismo, di non capire nulla, di non sapere nulla. Ha capito tutto, glielo assicuro. Sono diventato presidente nel 2000. Ho pensato, ok, la questione della Jugoslavia è finita. Ma dobbiamo cercare di ripristinare le relazioni. Riapriamo la porta che la Russia aveva cercato di attraversare. In occasione di un incontro qui al Cremlino con il presidente uscente Bill Clinton, proprio qui nella stanza accanto, gli ho detto, pensa che se la Russia presentasse una richiesta di adesione alla Nato, questo avverrebbe? Improvvisamente mi ha risposto, sai, è interessante. Credo di sì. Ma la sera, quando ci siamo incontrati per la cena, mi ha detto, sai, ho parlato con il mio team. No, no, non è possibile ora. Ho ripetutamente sottolineato che gli Stati Uniti non dovrebbero sostenere il separatismo o il terrorismo nel Caucaso del Nord. Ma loro hanno continuato a farlo comunque. Una volta ho sollevato questo problema con il mio collega, anche egli presidente degli Stati Uniti. Mi ha risposto che è impossibile. Ha delle prove? Ho risposto di sì. Ero preparata a questa conversazione e gli ho fornito le prove. Lui l'ha guardata e sa cosa ha detto. Mi scuso, ma è nata così. La CIA rispose che stavamo lavorando con l'opposizione in Russia. Ritengono che sia la cosa giusta da fare e continueremo a farlo. Il terzo momento molto importante è la creazione del sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti. Ho avuto una conversazione molto seria con il presidente Bush e il suo team. Ho suggerito che Stati Uniti, Russia ed Europa costruissero insieme un sistema di difesa missilistica ma la nostra proposta è stata respinta. Questo è un dato di fatto. All'epoca dissi, guardi, ma poi siamo costretti a prendere delle contromisure e ora vengo alla cosa principale. Sono finiti in Ucraina. Nel 2008, al vertice di Bucharest, hanno dichiarato che le porte erano aperte per l'adesione dell'Ucraina e della Georgia alla Nator. Come è arrivato al potere Viktor Yanukovych. Quando è succeduto al presidente Kukma per la prima volta, hanno organizzato un terzo turno elettorale, che non è previsto dalla Costituzione ucraina. Si tratta di un colpo di Stato. Gli Stati Uniti lo hanno sostenuto e il vincitore del terzo turno è salito al potere. C'è stato un colpo di Stato nel 2014. Hanno iniziato a perseguitare coloro che non hanno accettato il colpo di Stato. Ed è stato davvero un colpo di Stato. E hanno creato la minaccia alla Crimea che abbiamo dovuto prendere sotto la nostra protezione. Hanno iniziato la guerra nel Donbass, nel 2014, con l'uso di aerei e artiglieria contro i civili. Senza i sanguinosi sviluppi di Maidan, non avremmo mai pensato di alzare un dito. Sono stati loro a iniziare la guerra nel 2014. Il nostro obiettivo è quello di porre fine a questa guerra. E non abbiamo iniziato questa guerra nel 2022. Questo è un tentativo di porvi fine. Non sarebbe meglio negoziare con la Russia, concludere un accordo, quando si conosce già la situazione che si sta sviluppando oggi e che la Russia combatterà per i suoi interessi fino alla fine. Senta, lei ha detto che il mondo si sta dividendo in due emisferi. Il cervello umano è diviso in due emisferi. Uno è responsabile di un tipo di creatività. L'altro è più responsabile della creatività e così via. Ma si tratta sempre della stessa testa. Il mondo dovrebbe essere un unico insieme. La sicurezza dovrebbe essere condivisa e non destinata al miliardo d'oro. Questo è l'unico scenario in cui il mondo potrebbe essere stabile, sostenibile e prevedibile. Fino ad allora, dividere la testa in due è una malattia, una grave menomazione. È una fase di grave malattia che il mondo sta attraversando ora.